Ci dovremmo collegare con Ivana Costa, lo faremo tra qualche istante e vorrei chiamare qui per storia di donna Cinzia Spadola Salve a tutti, io Corrado quando mi hai comunicato di questo premio mi sono chiesto come mai, perché Corrado e l'associazione Supermundi vogliono assegnarmi un premio mi sono detta probabilmente anche io come Nilde che condivide con me un po' di meno ho anche io superato una malattia importante, noi ogni tanto ce lo diciamo con Nilde sappiamo che abbiamo un po' rischiato, però siamo state sempre molto ottimiste e quindi questo non penso sia una motivazione per darmi un premio sicuramente ci ho messo tanta voglia di vivere, l'ho tirata fuori tutta, ho combattuto ma questa è anche un po' la fortuna, Nilde mi direbbe molto la fede e tutta la forza che la mia famiglia eccetera eccetera mi hanno dato quindi io penso che per questo non merito un premio, forse lo merito un po' di più perché nella consapevolezza che mi è stata data una seconda chance cerco di valorizzare il più possibile e quella è la grande responsabilità ogni giorno io sento moltissimo la responsabilità di vivere bene il giorno, le opportunità e dare un senso importante a questa seconda chance mi sento molto fortunata, mi sento molto felice, ringrazio ogni giorno cado come penso cadiamo tutti ogni tanto nella disperazione, ogni tanto nello sconforto ma in linea di massima cerco di ottimizzare obiettivi della vita, quindi visto che questa vita è importante ce lo dovremmo un po' ricordare tutti quanti perché non è scontata ma viene donato ogni giorno, il mio obiettivo principale attualmente è proprio quello dell'inclusione l'inclusione è un concetto un po' filosofico, dico io, che non lascia fuori nessuno quindi in assoluto se tutti quanti vivessimo con quell'obiettivo non ci sarebbe guerra non ci sarebbe praticamente tutto quello che di male l'uomo produce cioè l'uomo e la donna, in questo senso e con questo concludo col concetto, così come diceva Francesca l'inclusione non vede tutti uguali, al contrario, vede tutti diversi e questo è proprio il bello è riuscire a valorizzare la caratteristica le cose che sono uniche nelle persone ed è una sfida bellissima perché a quel punto nessuno mi ha sbagliato se tutti riuscissimo a valorizzare la diversità saremmo sempre tutti giusti e saremmo sempre tutti anche vicendevolmente ammirati gli uni degli altri è per questo che io riconosco moltissimo la diversità e il bello di essere diversi e concordo che la questione femminile oggi appunto non si parla tanto di violenza ma si celebra la donna e la questione femminile, lo dico sempre, è una questione della società di tutti, uomini e donne perché valorizzarci a vicenda significa vincere tutti ed essere tutti quanti più ricchi quindi io grazie, umilmente dico grazie per questo premio te lo dà Carmela grazie Carmela grazie Cinzia